Sul lato accidentato della strada, dove le foglie frusciavano e i suoni svanivano nel buio, si trovava un piccolo cane che scrutava con occhi pieni di speranza il tratto di strada davanti a sé. Non comprendeva perché il suo proprietario lo avesse abbandonato in quel luogo buio e spaventoso, ma la solitudine e la paura cominciavano a farsi strada nel suo cuore. Le notti trascorrevano lentamente e amaramente, mentre il piccolo cane rimaneva al suo posto, sperando con ansia il ritorno del suo proprietario, ma la speranza svaniva con il passare dei giorni. In un momento di disperazione, il cane si alzò sulle quattro zampe e abbaiò con rabbia e tristezza, come se volesse trasmettere un messaggio di frustrazione a chi lo aveva lasciato in quella tenebrosa solitudine. Poi, mentre la notte si dissolveva e l'alba si preparava a sorgere, il cane notò dei movimenti in lontananza sulla strada, appena visibili attraverso la foschia mattutina, ma capì che qualcosa si stava avvicinando. Con il passare del tempo, la figura si avvicinava sempre di più al cane e la speranza cominciava a rinascere nel suo cuore, anche se rimaneva cauto, imparando che la fiducia non dipende solo dalle apparenze esterne. Quando la figura raggiunse finalmente il cane, stupore e sorpresa si leggevano nei loro occhi, trovandosi faccia a faccia, per puro caso o per meraviglia del destino. L'uomo che si avvicinava a Teneva, cibo e acqua in mano, con un sorriso caloroso sorriso, ristorando parole di benvenuto al cane. Sembrava volesse essere un amico. Nonostante il dolore e le delusioni del passato, il cane destisse di dare una possibilità all'uomo, perché la lealtà e l'amore non si perdono facilmente. E così inizia un nuovo viaggio insieme a un nuovo compagno. Ma questa volta era colmo di speranza. Grazie a tutti.